guarda una cia ma chi sta qua sotto? stai in luci spuglia stai sempre qua sotto devi andare in fuoco sicuramente stai a costruire palla a noi ma sei morto in fuoco che palla ha la zona del valore eh proteo craccato qua? mi hanno fatto cadere ma il sei legato? vogliono salire si che cazzo stai chissi? craccato? ma che è una partita di arena? scusami ci bevi ad ammettere la modalità così sembra un qua sotto frate è un altro qua? eh frate è malaviglia frate io sono one non c'è problema frate ho quasi finito i materiali frate no ho quasi atterrato uno fatto fatto quarantaquattro ha tornato uno ultimo marò marò bello il l'ha Grazie a tutti.